Sono un mastro fa leghiano, andato in pensione qualche anno fa. Sono un semplice artigiano, ma con esperienza e professionalità. Un giorno mi hanno regalato un pezzo di legno assai pregiato, gli ho dato sfogo alla creatività. E allora ho creato un cura di, lottando di destrezza, di elasticità, che corre, che fa le capione, cambia direzione, è la propria velocità. Solo, ero rimasto solo, senza più nessuna, non puoi poter parlare. Ma ora, ho questo cura di, dammi andare a scuola, e a cui fermava parte. Voi neanche immaginate, non ne vedi accombinate, non sapevo più che cosa fare. Piano, piano, bene o male, è riuscito ad imparare, tutto quel che c'era da imparare. Piano, piano, bene o male, è riuscito ad imparare, tutto quel che c'era da imparare, tutto quel che c'era da imparare. Fortunato, perché ero anofragato, mi sentivo già spacciato, ma il mio figlio mi ha cercato, non si è mai rassegnato, e alla fine mi ha trovato, rileggetevi la scena, in una caverna oscura, che non era una caverna, ma era in pancia una balena. Sono, un maestro falegnale, andato in pensione, qualche anofragio. Ma ora, ho presto a cura prima, davano andare a scuola, e a cui fattava parte, non vui poter calare, se vui poter calare, se vui poter calare.